Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il suo nome era Bella Ray Burch e aveva da poco compiuto 17 mesi quando, a marzo di quest'anno, è stata aggredita da un cane, nella sua abitazione, quella in cui viveva con la sua famiglia. La terribile tragedia si è consumata a Street L&S Merseyside, nel Regno Unito, anche se le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando ad una prima ricostruzione del dramma, il cane che ha aggredito a morte la piccolina, era stato acquistato dalla madre e dal padre circa una settimana prima, proprio per far felice la loro adorata figlioletta. A sbranare la bimba, uno Staffordshire Bull Terrier o un Pit Bull Terrier, mentre si sta cercando di capire se tale razza si è inserita nella lista di quelle pericolose e illegali ai sensi del Dangerous Dogs Act, 1991. Bella Ray Burch, che aveva spento la sua prima candelina ad ottobre, è stata letteralmente sbranata da quel cagnolino che aveva desiderato per così tanto tempo. Trasportata ad urgenza in ospedale, i medici hanno subito intuito la gravità della situazione. Difatti le ferite dei morsi erano talmente profonde da non lasciarle scampo. Bella è spirata in un letto del nosocomio, nonostante i medici abbiano fatto tutto il possibile per salvarla, mentre il cane è stato, in seguito, abbattuto. Ad oggi non si sa che cosa abbia innescato l'attacco, rivelatosi fatale per Bella, mentre i genitori, devastati da un dolore così lacerante, sotto shock, rimasti orfani della loro bambina, sono costretti a darle un ultimo saluto. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, avviando una raccolta fondi per il pagamento delle spese del funerale.